La storia di Luigi Alfano è la storia di un corpo dotato di ragione e sentimento che si muove in uno spazio che è quello dell'automobilismo irpino. Il giovane ben presto si accorge di avere una grande passione per la corsa e si mette in moto, corre, senza fermarsi mai. Luigi supera i suoi limiti, interni ed esterni, per mettersi in gioco continuamente. La sua è una storia di successi, la quale ci insegna che la nostra esistenza acquisisce valore solo se assecondiamo la nostra natura, solo se non calpestiamo i nostri ideali, solo se rispettiamo davvero l'avversario pur battendolo, nel quale possiamo sempre trarre insegnamento. La storia di Luigi Alfano è la storia di Luigi Alfano. la storia di Luigi Alfano è la storia di Luigi Alfano. La storia di Luigi Alfano vive un bel di spazio, per metteria di Luigi Alfano. La storia di Luigi Alfano è la storia di Luigi Alfano. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.